La regione Campania è al centro della logistica, quindi siete stati non a Salerno, ma qualche giorno fa a Avellino a inaugurare il cantiere dell'alta capacità, quindi l'asse che unisce Tirreno a Mediterraneo. Qui siamo oggi invece a lavorare per, concretamente finalmente, per avere gli investimenti necessari per un aeroporto, l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, che invece è un altro importante scalo hub aeroportuale. Abbiamo gli investimenti sul porto che abbiamo consentito, in particolare a Salerno, con il grande progetto. Quindi, insomma, tante buone notizie di sviluppo di un'area, come la nostra Campania, che deve diventare centrale del Mediterraneo e anche sul porto delle regioni, in questo caso la Basilicata, che chiaramente ne avrà anche lei un vantaggio diretto. La governance è condivisa, quindi vuol dire che saremo tutti insieme in questo grande progetto. Un'altra cosa importante che si fa a Salerno, dopo aver fatto la facoltà di medicina, in questo caso l'aeroporto, il grande progetto per il porto di Salerno, il ripascimento della costa. Insomma, da quando ci siamo noi, Salerno ha tante cose importanti, tante cose fondamentali e strategiche per questa straordinaria provincia e questa bellissima città.